Ve lo ricordate E' tornato Ciao ragazzi io sono Sergio e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 Ecco salto di guairo Ma io sono questo Ma che coglione che sono Non preme sto cuore Sono superato Sono giocando malissimo Questa è la palma Io sono uno degli ultimi come possibile E io sono l'ultimo degli ultimi Guardate come sta il mio personaggio Che gli ha convulsioni No no Jonathan ma perché hai scelto le stesse mie cose Non scegli sempre le stesse mie cose Non si capisce quale sono io e quale è Jonathan Allora quello che sta per un'ora e mezza Contro la palma Cosa significa questa cosa Oh backflip Ma quello sono io di sicuro Ma no Ha rallentato Come ci è andato addosso Non devo assolutamente perdere Non sono partito un po' più male No ma non sono partito un po' più male No ma non sono partito un po' più male Sei davanti a me comunque Oh ragazzi terrori in giapponesi No perché sono ottavo? Perché? 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 L'exo! Ragazzi facciamo la scommessa Ti ho beccato Se Jonathan riesce ad arrivare secondo o terzo E se Sebastian riesce ad arrivare quinto Se posizioni o quinto o prima Io a fine video scendo le scale con le gambe Oltavo E la scommessa va per le prossime due gatti Se non è di questo e ci riuscite lo faccio Lo faccio per voi Quante siete amati? Quante siete amati? Che bella cosa Guardate chi con guardate chi con Guardate dietro Questo sono io che ti lancio il coso No sei bastardo E poi ripassa Guardate lì dietro Tipo Che c***o Mi è andato a sbattere Aspetta Non si vede Che ritardato Che ritardato Questo sono io da soppello Oddio Se fossi caduto dalla moto Ce l'avevi goduto Ma che carino No mi sono scordato di scattare Chi è te fotografico ormai? Zucco Mario Zucco Mario Tipo Picotaro Ma no a Picotaro è quello che ha fatto Pepe la posa Prenderò Ma secondo voi Sto andando a 30 fps? No 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 Sto stumbrato Perché sto giocando Malleolo Malleolo No No Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove sta andando? Cosa sta succedendo? 12 cecchio Sono l'ultimo E' undicesimo Quello che sta Non vuole fare il kart Tutto bell'illuminato Tutta marrone Ma perché? Guarda Secondo la fisica Come faccio a fare le cose? Guarda Hai saltato a casa Guarda Guarda la moto Come tocca a terra Anche io Con la testa Ma comunque La faccia Così Così perplessa Prima Guarda Guarda Come si modifica La faccia Sta per un minuto Così L'ultima possibilità Che avete Per vincere La scommessa Se tipo Non arriviamo Quinti Quinti Oprimi Scendo io Le scale Così Va bene Anzi no Le scendete in due Terzo Secondo Terzo Secondo Che c***o No sei quattro Ma che palle No è che Do Perché io Sto dietro Di Sto Andato a sbattere Tutto l'olio Di palle No raga Una breve storia Da raccontare I bambini Prima di andare a dormire Allora C'era un tizio Di nome Jonathan Che un giorno Andò a sbattere Tutto la palma E fu riempito Di olio di palma Tutto la palma E se va Dai se va Ti capita un altro Che arriviamo Un dicesimo Vai se va Vai se va A Gioce Sebastiano Che No ormai E tra un punto Dicesimo Fai schifo Jonathan Fai schifo Vergognati Non so Non tagliare Altro del traguardo Cioè guarda Dai sì D'abbiamo vinto Oh raga Aspetta Sì 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 Belli Ho mangiato Il patto C'è c'è L'hai superato Che faccia Guarda il bug Ho fungo dentro la macchina Brick time Mi stanno ancora Spiego esce quello che voglio io Vai Che cos'è Ragazzi se il video vi piaccio No 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 Bello la penitenza Ma Jonathan si è impegnato E' arrivato secondo Ok scendi pure tu Io ti stavo salvando ma ti sei rovinato da solo Abbiamo trovato un ragazzo intelligente Tra i due wow L'ultimo che arriva ci prende un sacco di botte Guarda Jonathan come si caga sotto Tanto schifo Sì 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 Vieno, vieno, vieno Vieno Basta Come l'hai messo? Vabbè ragazzi il video finisce Ciao 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 Ciao